Il bello di Accademia è questo, che sa tirar fuori da ogni persona la propria personalità, ma soprattutto le proprie predilezioni, le proprie capacità. La prima impressione è stata l'impressione di serietà. Mi è stato presentato un piano che prevedeva delle lezioni in aula, uno stage formativo e la possibilità poi di intraprendere una carriera nel mondo lavorativo. Una formazione pratica, concisa, veloce, molto approfondita e molto tecnica, che era quella di cui avevo bisogno e che sentivo la mancanza. Grazie a Accademia ho potuto unire quella che in realtà è stata sempre una passione, che è quella dell'IT, della Digital Transformation. Ho trovato questa opportunità in Fiera Milano, l'ho colta al volo e mi sto trovando bene. Accademia, sì, mi ha dato la possibilità di conoscere prima quali erano le tendenze, facendo degli studi e per poi adesso poterla mettere in pratica. Il pieno è proprio questo, far incontrare persone che probabilmente non si sarebbero mai incontrati. Non è soltanto piani economici e business, c'è molta passione dentro quello che si fa. Accademia è molto attenta ai vari trend, c'è un settore di ricerca e sviluppo e ci ha permesso ovviamente tramite moduli specifici di social media di capire quello che sta succedendo intorno a noi e di darci uno sguardo sul futuro. Abbiamo trattato argomenti come la blockchain, il pricing, su questa Accademia fa il suo. I momenti che mi ricordo maggiormente sono state le lezioni con Eva Teruzzi, questa magnifica professionista che purtroppo ci ha lasciato quest'anno. È sempre bello vedere come all'interno di Accademia si riesce a formare un team di lavoro che riesce a trovare nelle altre persone anche un supporto. Accademia è stata veramente una formazione importante, necessaria e anche divertente. Ci ha insegnato a uscire dagli schemi. Spesso infatti non c'è una logica nella creatività ed è questo che la rende molto affascinante. Sono esperienze molto molto stimolanti e credo che il lavoro di squadra sia una tecnica meravigliosa e un modo per approcciarsi con gli altri e crescere. Grazie a tutti.